Buongiorno, benvenuti alla conferenza dell'architetto Gondong di Vector Architects a Pechino. Siamo qui nel ruolo di animatori del dibattito che seguirà con la partecipazione di Gong. Francesca Governa, che insegna geografia economica politica al Politecnico di Torino, svolge la propria ricerca molta sulla Cina nei centri del Politecnico Future Urban Legacy Lab e China Room. Io sono invece Michele Bonino, che insegna progettazione architettonica urbana e ho anche un ruolo di delegato del rettore per le relazioni con la Cina. A breve partirà la conferenza, solo due parole per inquadrare Gondong come progettista. La sua traiettoria è abbastanza simile a quella di molti altri tra i migliori architetti cinesi della sua generazione, parliamo degli under 50. Come vedremo però i risultati sono particolarissimi. Questa generazione ha aperto dal 2000 al 2010 una serie di studi professionali privati che prima in Cina non esistevano. Il mercato era dominato dai grandi istituti di progettazione pubblica che ancora oggi quantitativamente producono la gran parte dei progetti delle trasformazioni urbane. Però questi più piccoli studi di architetti mediamente giovani hanno intercettato una serie di temi importantissimi e che quindi, seppur quantitativamente ridotti, stanno dando all'architettura cinese un cambiamento molto importante. In particolare il tema che Gondong affronterà oggi è quello del recupero che ha assunto una dimensione importantissima in Cina. Potete immaginare che negli ultimi vent'anni l'urbanizzazione cinese ha proceduto a un ritmo tra i 15 e i 20 milioni di cittadini all'anno che hanno raggiunto le città e quindi potete capire come la trasformazione conseguente delle città possa essere passata sopra ai tempi della memoria, del recupero, della valorizzazione di cosa già esisteva in queste grandi città con questo grande arrivo di nuove migrazioni. Eppure ci sono tanti studi che hanno coltivato, con anche committenze molto preparate, molto illuminate, il tema. Dà un segno molto preciso, per esempio la mostra che ha aperto due settimane fa al MoMA di New York, proprio sulla Cina, che si intitola Reuse, Renew, Recycle, Recent Architecture in China. E sul manifesto, come simbolo tra i vari ospiti che espongono, c'è proprio una delle tre opere, l'ultima, che vedremo oggi, illustrate da Gondong. Quindi avremo un percorso tra una biblioteca di quartiere nata dalla ristrutturazione di una casa tradizionale, da ultimo un albergo, un'ex fabbrica di zucchero che è trasformata in un albergo, e poi in un piccolo villaggio sul mare la casa di un capitano di vascello che ha deciso di affidare a Gondong la trasformazione della sua casa privata, anche per far capire come la stessa committenza sta crescendo tantissimo in Cina. Subito parte la conferenza, dopo discuteremo. Due coordinate in più su Gondong, la prima che nel 2019 è stato nominato membro straniero dell'Académie Française d'Architecture, che contiene tra i suoi membri stranieri tutti i principali protagonisti dell'architettura contemporanea. Gondong è stato il primo cinese incluso, se si fa eccezione con Yomim Peil, l'architetto della piramide del Louvre, che però era naturalizzato americano. Questo per far capire come la figura di Gondong sia influente nel panorama di oggi non solo cinese ma internazionale. A livello accademico è professore alla Tsinghua University a Pechino e Distinguished Professor alla University of Illinois. e siamo anche contenti che quest'anno, a partire dal primo ottobre, è Visiting Professor qui al Politecnico di Torino. Quindi farà, speriamo anche dal vivo, a partire dalla primavera, anche un'altra serie di lezioni e conferenze durante l'anno. E quella di oggi, diciamo, introduce, pochi giorni dopo il suo incarico, la sua presenza a Torino per tutto l'anno. Grazie, buona visione. Buongiorno, io mi chiamo Gondong e sono della Vector Architects e siamo uno studio di architetti a Pechino. Grazie moltissimo per avermi invitato qua, in questa settima edizione della Biennale Democrazia. Oggi io condividerò con voi alcuni dei nostri progetti in Cina. Si riferiscono tutti al riutilizzo o alla ristrutturazione. Io vorrei condividere con voi sul come noi affrontiamo il rapporto tra vecchio e nuovo, in particolare in questo momento in Cina, dopo trent'anni dal processo di urbanizzazione spinta. E adesso inizierò la mia presentazione. Il primo progetto che voglio condividere con voi è un progetto molto piccolo. È una biblioteca di quartiere a Su Chang Lin in Yantai. Come potete vedere, ci sono degli enormi strutture moderne intorno che si giustappongono a questa piccola struttura in termini del rapporto fisico della situazione urbana. Il nostro scopo è quello di utilizzare questa, come fosse quasi agopuntura, un progetto piccolo che possa pungere, ma che possa inserire un progetto pubblico, cioè una biblioteca pubblica di quartiere e di utilizzare quello spazio e quell'atmosfera per ristabilire o ricuperare l'identità del quartiere e nel contempo di costruire questo legame o questo collegamento tra il mondo esterno e questa zona più vecchia per creare questo rapporto chimico, questa chimica tra le persone e quello che succede. Questo era lo scopo del progetto. Come potete vedere, gli edifici che circondano il cortile sono molto vecchi, alcuni hanno 500 anni e potete vedere che ci sono molti strati di questa costruzione storica, ma all'interno di questo spazio abbiamo utilizzato una struttura molto leggera, in acciaio, e potete vedere abbiamo cercato di inserire un sistema di circolazione nel contempo definisce lo spazio all'interno del cortile stessa, interagendo con gli alberi, con le vegetazioni, con la luce e i movimenti degli esseri umani. Questo invece per me è molto interessante perché in questa foto è dopo tre anni completamente del progetto e potete vedere come la natura è cresciuta e come abbia reagito, come si sia interfacciata. Il coloro ha creato anche un ambiente, un'atmosfera quasi imprevista, non è semplicemente definita dall'architettura, penso che l'architettura deve riuscire ad affrontare e mettere insieme molti diversi fattori, la luce, la meditazione, il colore, e questo crea uno spazio e qui potete vedere una parte del cortile. Per me questo è un momento che mi ha colpito molto, un momento emotivo perché il primissimo giorno l'apertura di questa piccola biblioteca e potete vedere come molte persone dal quartiere sono venute in questo luogo, persone anziane, persone giovani, bambini e sono si parlano, c'è una grande citazione, si parlano dei ricordi, io penso che questo sia veramente il momento più gratificante per gli architetti perché vedete come lo spazio abbia coinvolto tutti questi, non semplicemente un elemento fisico ma che è parte della vita delle persone. Il secondo progetto che vi devo far vedere è anche un progetto di ristrutturazione, si chiama la Casa del Capitano nel sud della Cina su una costa bellissima. L'intero progetto si basa sulla struttura originaria. Qua potete vedere la casa prima della ristrutturazione è un edificio tipico, molto generico nella zona ce ne sono tante è qualcosa che è fatto con una struttura murale in mattone con anche un rivesto in cemento ma come potete vedere ci sono dei problemi nella struttura ma secondo me c'era un collegamento molto forte tra la famiglia il capitano sua moglie la figlia un figlio e la casa. Quando hanno parlato con me del progetto hanno detto che questo edificio è stato costruito dalla generazione precedente della famiglia e quindi loro vedono questa casa come parte del fluire della famiglia. Questo è l'edificio dopo la ristrutturazione come potete vedere non abbiamo demolito la vecchia struttura sarebbe costato meno e più veloce se avessimo demolito l'edificio e l'avessimo poi ricostruito ma abbiamo deciso di ristrutturarlo strutturalmente abbiamo aggiunto uno strato di cemento armato molto sottile che rivestiva la struttura murale e mattore ma nel contempo ci ha dato la possibilità di aggiungere un terzo piano che è un nuovo spazio che loro volevano perché avevano bisogno di più spazio per i parenti e per gli amici in particolare l'estate in modo tale da poter godere il bel tempo che c'è lungo la costa quindi tra la vecchia struttura e la nuova struttura potete vedere che c'è un piccolo un piccolo spazio che serve a separare il vecchio e il nuovo questa è l'altra facciata dopo la ristrutturazione di notte questo edificio si staglia dagli altri e grazie a queste tecnologie moderne ci permettono di utilizzare materiali più trasparenti come per esempio mattoni di vetro o grosse finestre che hanno permesso a più luce di penetrare nella casa ma di giorno l'intero nuovo edificio ristrutturato si fonde con il resto delle case proprio anche per la palette per i colori che sono stati utilizzati i materiali mi è piaciuta questa armonia tra il vecchio e il nuovo ma nel contempo sento che il nuovo rappresenta la caratteristica la cultura non è solo un rapporto estetica è qualcosa che cresce qualcosa che sviluppa l'armonia tra vecchio e nuovo e all'interno fondamentalmente nei primi due piani hanno la vita quotidiana c'è la zona giorno e la zona notte questa è la camera della figlia e abbiamo utilizzato lo spessore del muro perché avevano sia la struttura murale in mattone originale che lo strato di cemento armato in modo in modo tale che tutte le finestre sono diventate delle finestre rientrate dando uno spazio che era tra l'interno e l'esterno questo di nuovo è uno spazio questo è il salotto potete vedere che l'esterno è parte del dentro e il dentro è parte della natura crea una reazione tra le persone che vivono dentro lo spazio e la natura che sta fuori questo è un angolo particolare che vi fa vedere come le persone possano interagire con le diverse parti della finestra e potete prendere una tazza di caffè magari e potete sedervi su quel sedile guardando dalla finestra e se volete più luce potete aprire quest'altra parte della finestra così il terzo piano è più come una stanza multifunzionale d'estata ci saranno più persone che vivono in questo spazio ma d'inverno invece dove si possono trovare per riunioni familiari per il karaoke ma anche loro sono persone molto religiose e quindi questo spazio è anche come una cappella per loro e ha una straordinaria vista sull'oceano guarda a est che indica pace un oceano e potete vedere che l'altra parte dello spazio invece guarda occidente e vedete che c'è una cosa diversa e la capitano dopo la pesca nell'oceano parcheggia lì la sua barca per così dire se mi permettete l'espressione parcheggiare quindi c'è il legame anche con la pesca e ancora una volta architettonicamente l'architettura riguarda il fisico la materialità ma sono i suoi l'intenzione gli occupanti sono quelli che veramente utilizzano in questo spazio e queste foto sono come un dono che la figlia mia del capitano mi ha mandato due anni dopo dal completamento del progetto e secondo me è veramente piacevole ho sentito che la loro vita è cambiata con questa casa e penso che abbia a che fare con il nuovo spazio e sento la felicità che emerge da queste foto e veramente mi hanno fatto pensare che l'architettura può essere la dignità anche per le persone che vi vivono e questo invece è l'ultimo progetto di cui parlerò è l'albergo a Lila Yangshu questa è una montagna carsica e potete vedere qua c'è la struttura esistente che era un vecchio zuccherificio costruito negli anni del 50 del secolo scorso quindi questo progetto dovevamo occuparci di due aspetti uno è rispettare il paesaggio ma l'altro è anche l'utilizzo della struttura esistente questa è la condizione in cui lo zuccherificio era prima del progetto l'intera fabbrica è stata chiusa negli anni 80 dopo 30 anni perché il governo l'ha chiuso per motivi ambientali ma non l'ha demolito forse perché non era al centro città è rimasto lì un giorno il nostro cliente ha visto questa struttura si è innamorato della struttura e del luogo in cui era ha deciso di trasformarlo in un albergo contemporaneo qui potete vedere le condizioni interne prima e dopo io sono stato molto fortunato perché ho pranzato con alcune persone del luogo e la maggior parte di loro avevano lavorato nello zuccherificio e quindi io dopo un po' ho cominciato sentire un rapporto emotivo molto stretto con loro e col posto e anche l'importanza del lavorare in quel posto secondo me questo è stato molto utile per comprendere il significato della struttura non è semplicemente la sua fisicità ma anche il suo collegamento emotivo che c'era qui sono una serie di disegni noi cerchiamo di utilizzare questi per sviluppare la conoscenza del sito e anche le condizioni del progetto qui potete vedere proprio uno dei primissimi disegni che immagina quella che può essere la distribuzione dei luoghi che però è molto diverso da quello che poi abbiamo fatto alla fine ma c'è una cosa di certa qualunque cosa decidessimo di fare volevamo cercare di mantenere la fabbrica al centro del sito perché dovevamo mantenere la dignità del vecchio edificio e abbiamo scelto dei sviluppo di edifici molto semplici e orizzontali per un motivo questa orizzontalità ha un rapporto molto interessante con la verticalità delle montagne carziche che circondano l'albergo e nel contempo quella semplicità di questo gioca un ruolo interessante nel come affrontare questo gruppo dello zuccherificio che è qui potete vedere il risultato finale qui è il gruppo degli edifici originali in questa zona che è stato trasformato in ristorante bar insomma diverse cose e qui un nuovo edificio per 110 stanze abbiamo anche costruito questo laghetto che è un pochino per antincendio ma anche una caratteristica del paesaggio prende l'acqua dal fiume l'Itan e qui c'è una zona di piscina che è anche parte dell'edificio originale che abbiamo modificato e qui potete vedervi il risultato di come è stata utilizzata la struttura originale e l'edificio in mattoni e come potevamo sviluppare questo rapporto positivo tra la struttura nuova e quella vecchia e qui potete vedere il disegno a un certo punto abbiamo scelto un sistema di impilazione cioè di pezzi di cemento blocchi di cemento impilati come struttura muraria ma diventa una struttura che permette alla luce e all'aria di passare ma nel contempo proprio perché è impilata ha una certa continuità una certa corporeità è una struttura come diceva che mette insieme il vecchio muro e mattoni e questo nuovo quindi questi dettagli sono molto importanti anche se i materiali erano completamente diversi qui potete vedere abbiamo dovuto rendere più maggiori più grandi le dimensioni del modello a un certo punto siamo arrivati a un modello uno a uno poi abbiamo dovuto lavorare con persone del luogo qui potete vedere i blocchi di cemento e si vede come verranno impilati hanno aperto una fabbrichetta per produrre i materiali necessari questa è una scelta molto interessante perché hanno risparmiato tempo hanno risparmiato denaro perché ci sono molte zone in cui dovevamo utilizzare materiali fatti proprio su misura e quindi abbiamo potuto risolvere il problema ed ecco il risultato finale di questo sistema impilato e in ultimo vorrei utilizzare un video semplicemente per darvi il senso di tutto questo progetto grazie moltissimo e a questo punto guardiamo il video 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 nel video video nel video video di video video Grazie. 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 Buongiorno, io mi chiamo Gong Dong e sono della Vector... Bene. Grazie. Gong Dong è collegato con noi da Pechino per il dibattito. L'aspetto giusto conferma che ci senta e così iniziamo. Ok, sono qua e vi sento. Adesso parleremo in italiano, avrete la traduzione. Ok, ok. Grazie mille per la bellissima conferenza e per essere qui per il dibattito con noi e anche coinvolgendo il pubblico. Lascio subito a Francesca per un primo intervento. Sì, grazie, grazie molte. Grazie ovviamente al pubblico che è qui stamattina, ma grazie molto a Gong Dong per il video che ci ha mandato, per i contenuti di questo video, per i progetti, le idee e le questioni che mette sul tavolo. Io non sono una progettista, sono una geografa, mi occupo e provo a capire qualcosa delle città. Quindi in questo intervento volevo sottolineare due questioni e poi porre a Gong Dong due domande a partire dai suoi progetti, che non sono in grado di leggere dal punto di vista architettonico, ma prova a leggere appunto all'interno di queste due questioni che dicevo. La prima questione fa un po' riferimento al titolo di questo incontro, un titolo che mette insieme la città del futuro, il vecchio e il nuovo. Quindi è un titolo che mette insieme il futuro con quello che c'era prima, con quello che c'è adesso. Allora a me questo sembra un aspetto importante da sottolineare, cioè il fatto in qualche modo che la città del futuro è quella che si costruisce giorno per giorno, e quella che si costruisce attraverso trasformazioni piccole e grandi, decisioni individuali e collettive, progetti impliciti e progetti espliciti. In qualche modo la città del futuro è già lì e a me sembra che i progetti che ci ha presentato Gong Dong in questo video facciano esattamente questo. Cioè in qualche modo ci permettono di aprire gli occhi sulle cose che sono già lì e portano quindi all'esistenza questa città del futuro che è già iscritta all'interno della città esistente. Seconda questione, diciamo un po' di inquadramento che volevo porre, questa questione fa riferimento proprio al fatto che siamo qua oggi. Siamo qua oggi e in un dialogo aperto fra Cina e Italia sulla città. Sembrerà una cosa scontata, ma non lo è per nulla. Non lo è per nulla perché nel campo delle teorie urbane, delle idee di città, sia dal punto di vista teorico, sia dal punto di vista progettuale, quindi sia dal punto di vista della ricerca, dei progetti, delle trasformazioni, per un lungo periodo, diciamo così, lo scambio all'interno del mondo era uno scambio fondamentalmente unidirezionale. La città del mondo occidentale, le esperienze urbane del mondo occidentale in qualche modo definivano la linea. Allora, a me sembra che questo dialogo di oggi e gli straordinari progetti che ci ha presentato Gondong siano parte appunto di un cambiamento, un cambiamento radicale nelle relazioni fra le diverse parti del mondo per quanto riguarda la città, per quanto riguarda le esperienze urbane da cui e con cui possiamo imparare. C'è una interazione aperta fra il mondo occidentale, il mondo orientale, fra il nord e il sud del mondo, eccetera. Che cosa comporta questa apertura di questo dialogo che è foriera di grandi interesse? Comporta sostanzialmente la necessità di in qualche modo rinegoziare, negoziare continuamente in maniera diversa quello che è specifico e quello che è generale. Nella città, nel progetto di città, nel progetto del nuovo che parte dal vecchio, nel portare all'esistenza quello che c'è già ci sono delle specificità ovviamente, ci sono delle specificità cinesi così come ci sono delle specificità italiane ma ci sono dei tratti generali e questa apertura di questo dialogo secondo me è particolarmente interessante proprio perché ci permette di rinegoziare queste relazioni fra ciò che è generale e ciò che è specifico. A partire da qui, da questi due temi molto generali che però secondo me sono importanti per situare il nostro discorso a me sembra che i progetti di Gondong nello specifico e quindi in questa relazione fra specifico e generale in questa rinegoziazione pongano due questioni principali o almeno così io le ho lette e volevo capire un po' con lui. La prima questione che viene in particolare messa in evidenza dal primo progetto cioè il fatto che diciamo i molti mondi urbani che sono presenti all'interno della città e come e quanto il progetto di architettura riesca a definire degli spazi di coesistenza fra questa molteplicità di mondi. La seconda questione che forse è più presente nell'ultimo dei progetti, quello del riuso di questa fabbrica in un'area diciamo di montagna comunque, riguarda uno dei temi classici dello studio della città cioè la relazione fra quello che è città e quello che è campagna e come il progetto di architettura come il progetto anche di riuso, quindi un nuovo che parte dal vecchio, ridefinisca continuamente questa relazione. Grazie ancora Dong per il tuo video, i tuoi progetti e se diciamo le due questioni che ponevo ti permettono di svolgere qualche ulteriore riflessione. Mi sentite? Innanzitutto è un gran piacere di avere questa possibilità di parlare con voi. I due problemi che voi sollevate sono molto significativi, perlomeno in Cina. Io non so quanto voi comprendiate la Cina e il processo di urbanizzazione che ha avuto luogo negli ultimi 30 anni. noi abbiamo sperimentato un processo di urbanizzazione molto drastico, abbiamo avuto un'urbanizzazione estremamente forte e abbiamo imparato anche da questo. 30 anni fa, 40 anni fa in Cina, noi non avevamo le cosiddette città moderne ancora. Noi eravamo in uno stadio piuttosto iniziale. Abbiamo una nazione che si è aperta al mondo e abbiamo un'energia incredibile. volevamo raggiungere quello che era il resto del mondo e che era davanti a noi. ma noi abbiamo subito un cambiamento radicale, enorme. Abbiamo cercato di costruire tutto quello che potevamo a un'enorme velocità e questo ha voluto dire che abbiamo demolito molte delle parti tradizionali delle città, ma dopo 30 anni, praticamente 35 anni di questo sviluppo molto forte, adesso la gente cerca di sollevare altri problemi. Cioè, per che cosa abbiamo una città? Qual è lo scopo della città? e penso questo da rapportarsi all'argomento che voi avete sollevato. Dai 35 anni fa ad oggi, noi abbiamo discusso il futuro della vita. Qual è il futuro della vita? Questa è la domanda di fondo. Quando noi abbiamo... Quando l'albero della vita, quando l'albero del tempo è stato distrutto e si è urbanizzata piuttosto in maniera fredda per gli esseri umani, senza che ci sia abbastanza collegamento emotivo con l'aspetto fisico, questo è stato il problema. E questo è quello che l'urbanizzazione veloce della Cina pone. Ci sono sempre più persone che la criticano o che riflettono che cosa possiamo fare per costruire per costruire un luogo vero per gli esseri umani, perché gli esseri umani possano vivere insieme e di poter dare questa qualità di vita normale a loro. Questo è molto importante per noi. E non è una questione soltanto fisica, è una questione anche emotiva. Quindi, per rispondere alla sua domanda, le due domande. La prima domanda è... Questa biblioteca è in una zona molto antica, in una città molto antica della Cina. E poiché c'è questo sistema di infrastrutture che è rimasto indietro, le persone hanno cominciato a sentirsi isolate nell'ambiente nuovo, considerando quelli che erano gli edifici della vita contemporanea. Quindi abbiamo deciso di costruire degli spazi pubblici per iniettare un collegamento tra le persone e lo spazio. Per quello che riguarda l'architettura, secondo me è importante, è praticamente magico, perlomeno ne parlo per me, che ogni progetto sembra scatenare una vita nascosta, un'energia nascosta, prima ancora che si trasformi in un progetto particolare. Quello che noi possiamo fare come architetti è cercare di scoprire dov'è che ci sia questa vita, questa energia e cercare di rinnovarlo e di trasformarlo in una buona qualità di vita per le persone. E questo è quello che noi abbiamo cercato di fare nel primo progetto. Abbiamo cercato di mantenere tutti gli aspetti storici, anche se a volte è caotico il tutto. Ma quello che cerchiamo di fare è che cerchiamo di utilizzare i nuovi interventi per riequilibrare lo spazio e per farlo rinnovare, trasformarlo, per avere una buona qualità nella vita normale. Questa è la prima cosa. Se avete delle domande potete fermarmi se volete pormi delle domande. Mi sentite? Sì. Yes. Quindi se no facciamo una prossima domanda. Grazie, grazie mille. Prima di lasciare la parola al pubblico per eventuali domande, ne faccio una anch'io su una cosa che mi è interessato molto nella tua conferenza, anche in relazione ai temi di questa biennale democrazia. Cioè mi sembra che tu sia particolarmente interessato al coinvolgimento della comunità, non solo a livello di utilizzo pubblico degli spazi, come era ad esempio molto evidente nel primo progetto della biblioteca, ma anche a livello di costruzione. Ricordo da un tuo precedente intervento, quando raccontavi che nel caso della Casa del Capitano, il fatto di trovarsi in un villaggio fatto di vicoli strettissimi e di spazi limitati, non ha permesso di portare sul posto nessuna tecnologia di costruzione, nessuna gru, e quindi si è dovuto far conto sugli artigiani, sui costruttori locali che hanno fatto tutto con le proprie mani, e quindi in un lavoro collettivo, comune, per realizzare questa casa. E poi era anche molto evidente, nell'ultimo progetto, e l'hai richiamato come sia stato indispensabile creare una sorta di fabbrica sul posto per la tecnologia della facciata, quindi richiamando a produrre, laddove mancavano materiali sul mercato per realizzare una facciata del genere, chiamando a produrre proprio le maestranze locali. Questo è molto interessante perché dà l'idea di una continuità tra la costruzione e lo successivo utilizzo, che di solito sono visti come due momenti molto distanti, uno tecnico e l'altro invece pieno di vita, mentre mi sembra che nei tuoi lavori punti tantissimo su questa continuità. Sei d'accordo? Hai dei commenti su questo? Sì, concordo, ma penso che uno dei problemi dell'architettura moderna, perché ogni stadio è molto chiaro e separato, proprio per il modo in cui noi produciamo, ma l'architettura a volte non è semplicemente produzione, dà molta informazione emotiva, informazione tradizionale con le persone locali. Se torniamo al villaggio tradizionale cinese, tutto il contesto fisico è costruito da quelli che abitano lì, ma questo è molto diverso in termini del modo in cui viviamo oggi, ma perlomeno questo rappresenta, questo modo di agire, un modo particolare, una qualità di vita particolare, cioè che è tutto raccogliere l'informazione genetica, tra virgolette, cioè quella a cui appartiene. Quindi l'architettura a volte è una serie di informazioni genetiche che si interfacciano con la comunità locale, le persone locali. La gente appartiene all'architettura, l'architettura appartiene alle persone, ma in alcune città è difficile da ottenere, ma perlomeno secondo me ci devono essere alcuni luoghi in Cina in che lo rispondono, perché in Cina da un lato abbiamo questo contesto metropolitano come Beijing e Shanghai, ma nel contempo abbiamo Yangshuo, oppure delle città di secondo o terzo livello che non sono sviluppate come, dove gli edifici nuovi non occupano tutto lo spazio, e quindi lì l'architettura ha la possibilità di interagire in questi luoghi di produzione, costruzione e coinvolgimento della comunità locale. Che secondo me è molto importante per me, per la mia interpretazione del valore dell'architettura. Chiarissimo. Chiedo se c'è qualche intervento, domanda dal pubblico. Se volete chiedere qualche argomento a Gondong, c'è qui un microfono. Noi abbiamo di che proseguire con altre domande, ma se in qualsiasi momento volete unirvi al dibattito, molto interessante anche per raccordare il tema con quello generale di questa biennale. Non so intanto se Francesca tu hai un secondo. Sì, una cosa nel senso che appunto in questi progetti e anche nella presentazione che ne veniva fatta nel video e anche nel discorso che faceva adesso Gondong, molta enfasi è posta sulla dimensione emozionale, sull'importanza che l'emozione svolge nella vita urbana e deve svolgere anche nel progetto. Nel senso che un progetto, scusatemi la semplificazione, però può funzionare nel momento in cui risuona con questa dimensione emozionale dello spazio. Allora, questo è un elemento appunto su cui sei ritornato più volte nel video, sei ritornato anche adesso. Mi piacerebbe magari riuscire a svilupparlo di più, anche perché di nuovo spesso l'idea della città del futuro come una città che si dimentica sostanzialmente di questa dimensione emozionale, spirituale, eccetera, eccetera, e invece questo elemento come un elemento centrale della pluralità dei mondi che abitano questo pianeta. Sì, se l'ho compreso correttamente, io penso che l'architettura sia una parte di questo spazio fisico che dà un senso di appartenenza. Noi viviamo in una comunità e quando si... uno ha bisogno del senso di appartenenza e le emozioni o il livello di questo collegamento emotivo è assai importante, bisogna avere questo per avere l'idea che noi apparteniamo ad un quartiere o a una città o quello che sia. Questo è il motivo per cui io penso che l'emotività sia una parte molto importante dell'architettura, non soltanto della quantità, la qualità, non soltanto la funzione fisica, per esempio una biblioteca oppure qualcosa del genere. No, quella è una funzione, ma il rapporto emotivo è un'altra cosa, è dal senso di appartenenza che è molto importante. C'è una domanda qui dal pubblico, se... Grazie. Prego, qui, grazie. Prego. Sì, grazie. Complimenti innanzitutto per questi straordinari progetti e per la sensibilità che dimostrano. La cosa che mi ha colpito è che, insomma, come si diceva anche prima, dopo un ciclo di 30 anni di globalizzazione unidirezionale, da Occidente verso l'Oriente, la sensazione è che tornino delle riflessioni veramente stimolanti su temi che sono stati storicamente, insomma tipicamente, proprio dell'Occidente, nel rapporto con i luoghi, la memoria. Mi chiedevo se questa esperienza è un'esperienza, diciamo, che tu vedi come estremamente propria del tuo lavoro o è un'esperienza... Io non conosco, conosco pochissimo l'architettura cinese contemporanea, è un'esperienza che vedi in tuoi colleghi in maniera diffusa o è proprio specifica del tuo lavoro e non possiamo considerarla come, diciamo, un trend più diffuso. Grazie. Devo dire che in questi ultimi anni, 35 anni, abbiamo avuto un punto di partenza e negli ultimi anni è l'intera società, non è soltanto l'architettura, è l'intera società che sta ripensando, sta cominciando a criticare tutti questi problemi che derivano da questo processo di modernizzazione. Quindi, questo è una forza molto forte e l'architettura deve rapportarsi a questo. Questa è una forza che viene da fuori, ma all'interno della comunità degli architetti le persone hanno cominciato a parlare della memoria, del tempo e la vita, molto più adesso di dieci anni fa, perché la velocità dello sviluppo si è rallentata rispetto a dieci anni fa. Quindi abbiamo il tempo, non abbiamo quella pressione incredibile di costruire, 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 costruire grossi edifici. Noi abbiamo meno pressione da questo punto di vista e quindi questa è una parte del motivo. La gente ha lo spazio o ha anche il desiderio di parlare di questi aspetti dell'architettura invece che semplicemente costruire, 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 costruire. Quindi direi che è questo quello che è cambiando. Le circostanze sono cambiate adesso. Anda, la vedo, sì. Mi veniva da chiedere anche a me una cosa. Mi premeva capire di questa opportunità e veramente, sinceramente complimenti a Don Gon per la sua bravura professionale. Ma mi premeva capire proprio per apprezzare al meglio questi tre casi qualcosa di più del terzo progetto cioè in tema di contesto. Voglio dire mentre nel primo caso è chiarissimo il contesto della nuova biblioteca valorizzando strutture vecchie in una città che si dà una strutturazione moderna eccetera mentre nel secondo caso è ancora più chiaro il contesto cioè una famiglia che vuole valorizzare una struttura precedente abbastanza banalotta sfruttando al meglio queste viste molto belle del mare delle isole che lei ha valorizzato in maniera veramente superba non mi è chiaro il contesto c'è questa cattedrale nel deserto questa ex fornacero che diventa albergo qual è il contesto l'utilizzo c'è un posto di convegni non credo perché così molto tranquillo è un posto per riflettere apprezzare la natura non capisco bene la cronice il contesto anche come il filmato fa capire appunto valorizza gli spazi i silenzi però nello stesso modo non chiarisce esempio il godimento della natura cioè perché quei prati lasciati quasi selvaggi come noi chiamiamo le erbacce voglio capire meglio il tutto del terzo progetto e poi ripeto mi unisco a chi mi ha preceduto complimenti sinceri posso dire qualcosa sul terzo progetto è in una zona suburbane non è proprio in campagna è al bordo della città della contea che è famosa per il turismo è praticamente come la prima generazione che si prima città la prima generazione delle città per il turismo quindi non è un non è un albergo per uomini da fare o donne da fare uno ci sta per un paio di giorni uno non ha più uno può stare in serenità sereno tranquillo non avere troppi legami col mondo esterno quindi il paesaggio che circonda è molto importante di valore proprio per il tipo di utenza e il motivo per cui noi abbiamo fatto questo è perché il fiume è famoso per il paesaggio per l'acqua ma oltre a questo abbiamo questa questa specie di cattedrale che era una fabbrica e che è rimasta lì in quel luogo ma negli anni ottanta nella zona locale il governo ha cercato di bloccare tutte le fabbriche lungo il fiume per cercare di bloccare l'inquinamento del fiume e quindi ha bloccato l'industria in quella zona quindi quella struttura è stata abbandonata è rimasta lì di lì abbiamo questo edificio fisico che domina l'intero complesso e noi abbiamo pensato che i nuovi edifici dovessero essere accanti ma dovessero vedersi insieme equilibrarsi e naturalmente ci sono ospite per gli ospiti perché possano restare qualche giorno per una vacanza e nel contempo l'intera struttura che è stata rinnovata è diventato un caffè un ristorante una biblioteca tutto questo fa parte anche di un programma di utilizzo pubblico e quindi è un luogo che vi permette di distanziarvi dal luogo in cui siete abitualmente e poter passare anche delle vacanze e questo è l'informazione che dà il quadro di questo progetto qualche minuto quindi ne approfittiamo chiedo se c'è ancora qualche intervento dal dal pubblico altrimenti facciamo due domande lampo ok vado la domanda lampo è difficilissima credo nel senso che quello che si diceva dopo il periodo della grande urbanizzazione in Cina adesso si riesce a ripartire anche con progetti attenti alla storia alla qualità eccetera credo che però uno dei grossi temi che abbiamo di fronte tutti è proprio quello invece di riuscire a instillare a aumentare la qualità anche nei periodi di grande urbanizzazione di grande costruzione cioè questo come possiamo affrontarlo adesso io non ho la minima idea non è il mio mestiere fortunatamente però credo che sia un problema riuscire a aumentare la qualità anche nella quantità così come è stata fatta nei 30 anni della grande urbanizzazione 40 anni della grande urbanizzazione cinese unisco magari anche la mia breve domanda così poi puoi concludere il tema di oggi era legato alla dicotomia vecchio nuovo ma un'altra accoppiata interessante che hai richiamato di recente in una intervista che è uscita su 7 del Corriere della Sera due giorni fa era quello tra pesantezza e leggerezza che non riguarda le caratteristiche dei materiali ma qualcosa di più profondo ovvero la caratteristica dell'architettura di risolvere una serie di aspetti soft in materiali quindi come l'accoglienza la salute la socialità dall'altra quella invece di come come il suo proprio da sempre quella di avere l'aspetto hard della costruzione degli spazi dell'ingresso della luce ecco tu dicevi come questo storicamente ha sempre caratterizzato la migliore architettura questo collegamento tra la parte pesante e la parte leggera tra quella materiale e immateriale e che la pandemia ha rischiato di mettere molto a rischio questo collegamento quindi scollegando i due aspetti come vedi la ripartenza cioè c'è qualche progetto nuovo che stai facendo dove questo collegamento tra pesantezza e leggerezza tra soft e hard di nuovo si riescono a incontrare grazie io penso che è una domandona e questa è la domanda con cui che io sto cercando di affrontare la pandemia ha cambiato il modo la nostra vita normale e questi tipi di problemi sono veramente dei problemi grossi ma io penso che come esseri umani dobbiamo avere un modo per sentire di esseri umani e io penso che l'architettura sia un modo molto importante noi dobbiamo mantenere questa qualità anche monumentale dell'architettura anche la digitalizzazione delle cose anche la rivoluzione dell'informazione tutte queste cose cambiano o mutano aggiustano il modo in cui noi viviamo sulla terra ma io penso che vi sia un valore eterno fondamentale che l'architettura può dare alle persone perché possano vivere sulla terra come esseri umani quindi la fisicità la spiritualità quello che avete appena detto la leggerezza il peso tutto questo tutto questo sembrano dei paradossi io li chiamo però dualità il doppio segno di un'unica cosa o le molte facce di un unico è qualcosa però che sto cercando di capire quindi non penso di poter dare una risposta su questo perché questa è una domanda molto significativa moltissimo da parte degli organizzatori del pubblico di francesca e mio per la tua partecipazione a biennale democrazia ti aspettiamo spero presto dal vivo per il tuo insegnamento al al politecnico al pubblico anche se so che oggi è una giornata di impegni densi di biennale ricordo che è l'ultimo giorno di una mostra che parla proprio di questi argomenti China Goes Urban al museo d'arte orientale che dopo alcuni mesi chiude oggi e parte anche del programma di biennale democrazia curata da noi del politecnico con Prospect Photographers e contiene anche uno dei progetti di Gondong il Changjiang Art Museum del 2019 quindi se avete nel pomeriggio del tempo il Mao è qui a pochi minuti grazie ancora grazie Gong alla prossima ciao ciao grazie ciao 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 spero di poter esserci in persona presto ciao